Dal 28 aprile al 20 ottobre, MINI torna in pista con un trofeo monomarca aperto alle MINI Cooper S stradali dotate di kit racing e pneumatici slick. MINI Challenge, giunto alla seconda edizione e supportato quest'anno da AC Sport, si snoderà lungo sei weekend che vedranno le 25 auto iscritte al via fronteggiarsi in due gare da 25 minuti, più un giro ciascuna, sui circuiti di Vallelunga, Franciacorta, Spielberg in Austria, Mugello, Imola e Monza. L'accessibilità è uno degli elementi fondamentali del trofeo, quindi l'opportunità di andare presso la nostra rete di concessionari a quest'area una MINI Cooper S, quindi standard, una MINI da 1.6 turbo a 184 cavalli, alla quale aggiungere un kit racing, un kit da una parte di sicurezza e dall'altra parte di performance, ancora per esaltare ancora di più l'adrenalina nel provare una MINI, quindi un'operazione molto semplice che avvicina al mondo della motorsport anche clienti più giovani.